Buongiorno, benvenuti in Casa Informa. Oggi andremo a trattare il trattamento della chirurgia dell'obesità, altrimenti detta chirurgia bariatrica. L'obesità è ormai universalmente riconosciuta come una patologia, per cui la chirurgia che si occupa dell'obesità non deve essere intesa come una chirurgia estetica, ma come una chirurgia volta a risolvere un problema importante come quello dell'obesità. L'obesità si associa a diverse altre comorbidità, quali possono essere disturbi di tipo ormonale, insufficienza respiratoria, insufficienza cardiaca, ipertensione, problemi di natura anche a livello osteoarticolare. La chirurgia dell'obesità è volta soprattutto a determinare un repentino e duraturo calo del peso. Essa viene ormai universalmente effettuata in tutto il mondo e l'intervento che ha avuto maggior successo in questi ultimi anni è l'intervento di resezione gastrica verticale o altrimenti detta sleeve resection, che consiste in una notevole riduzione di capacità dello stomaco che viene ridotto da una sacca a un semplice tubo che in inglese si traduce col termine sleeve. Ciò consente di determinare una dieta duratura nel tempo e quindi anche una rieducazione alle nuove abitudini alimentari. L'intervento viene fatto in anestesia generale, quindi deve essere considerato come un intervento chirurgico a tutti gli effetti. Per effettuare questo intervento c'è bisogno di effettuare un percorso di accertamenti preoperatori per valutare la elegibilità, quindi la candidatura a questo tipo di trattamento chirurgico. Una volta fatto l'intervento, la degenza post-operatoria è limitata a un periodo di 5-6 giorni, il tempo per verificare che l'intervento sia andato a buon fine, dopodiché si ritorna a casa e si comincia questa nuova avventura dietetica che porterà sicuramente a un notevole calo di peso nel primo anno dopo l'intervento, corrispondente a circa il 60% del sovrappeso iniziale. Dopodiché si avrà anche un calo nel successivo semestre e nel successivo anno, ovviamente di minore entità, ma che consentirà di mantenere quelle condizioni cliniche migliorative rispetto alla procedura pre-intervento. Questo intervento è gravato da una percentuale di successo molto elevata, prossima anche al 90%, con un indice di gradimento notevole, soprattutto da parte di quelle persone che per il loro sovrappeso avevano dovuto modificare le loro abitudini di vita. Il ritorno a una situazione quoante, quindi alla possibilità di vedere il loro colpo migliorare dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista funzionale, determina anche un notevole miglioramento dell'aspetto psicologico di questi pazienti che ritornano a una nuova vita. Difficilmente ci sono dei pazienti che ritornano ai controlli postoperatori, che sono obbligatori e che manifestano una insoddisfazione per l'intervento effettuato. Come tutti gli interventi, questo intervento ha una percentuale di complicanze, di complicazioni. Non parliamo di mortalità, perché la mortalità per questo intervento è veramente bassissima, quasi inesistente. Dico quasi perché non è possibile pensare a una chirurgia senza una mortalità. È gravata invece da una bassa percentuale, però di morbidità. La complicanza più fastidiosa di questo intervento è la fistola gastrica, cioè una specie di fuoriuscita di contenuto alimentare dal lume gastrico, che deve essere trattata alcune volte con un reintervento, altre volte invece con una terapia ovviamente ospedaliera, volta a far guarire questa complicazione. È una chirurgia di notevole successo, che sta determinando anche un notevole impatto dal punto di vista sociale, perché questi sono pazienti ovviamente che vengono recuperati non solo alla vita sociale e personale, ma anche molto spesso alla vita lavorativa. Ritengo pertanto che questo sia un intervento definito in termini scientifici come gold standard per il trattamento dell'obesità. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo aggiornamento di Casa Informa.